Importanti avvicendamenti negli incarichi di vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia. Il Tenente Colonnello Ruben Ruggeri, precedentemente in forza al Comando Legione Carabinieri Toscana, ha assunto il ruolo di comandante del reparto operativo del Comando Provinciale di Pistoia, fin qui ricoperto dal Tenente Colonnello Bulla, trasferito al Comando del Reparto Operativo di Agrigento. Il Maggiore Antonietta Pedrone, precedentemente comandante della Compagnia di Faenza, regge il comando della Compagnia di Pistoia, andando così a succedere al Maggiore Steven Noccioletti, trasferito a Roma alla Scuola Ufficiali. Il Capitano Pier Giorgio Cataldo ha assunto l'incarico di comandante della Compagnia di Montecatini Terme, dopo aver prestato servizio presso il IV Reggimento Carabiniere a Cavallo. Sostituisce il Capitano Alessandro Sorgente, trasferito al Comando della Compagnia di Torino oltre d'ora. In ultimo, il Tenente Pierluigi Moriconi, proveniente dal Comando del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Varese, comanda adesso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pistoia, succedendo al Tenente Colonnello Bulla, che lo ha preceduto nell'incarico. Gli ufficiali sono tutti ufficiali di esperienza, prima ancora però vorrei dire che questi rinnovi sono fisiologici, nel senso che non sono dettati ovviamente da motivi particolari, ma ovviamente ciascun ufficiale ha un suo profilo di carriera e quindi svolge il servizio presso un comando, ma poi dopo un certo numero di anni, per causa di forza maggiore, viene destinato per progredire nella sua carriera e nel suo impegno professionale.